Una stangata che finirà di distanguare le famiglie barlettane, già alle prese con il difficile momento dell'economia nazionale. I consiglieri del centrodestra di Barletta non usano mezzi termini per definire il nuovo quadro dei tributi che l'amministrazione del sindaco Cascella sta per licenziare attraverso il consiglio comunale iniziato questa mattina. I rappresentanti delle forze politiche di centrodestra si sono incontrati ieri sera nell'auditorium della chiesa di Sant'Antonio per fare il punto della situazione su ciò che toccherà pagare ai barlettani con il ritocco dell'Imu e l'introduzione di Tari e Tasi. Il comune ha già deliberato con atto di giunta l'aumento dell'Imu, ha sottolineato il consigliere Damiani nel suo intervento portando l'aliquota dallo 0,86 allo 0,96%, colpendo così tutti i proprietari di seconde case, terrini e altri immobili. Per la Tari, la tassa sui rifiuti, il centrodestra propone di posticipare a marzo il 50% del suo pagamento per evitare che tra i mesi di ottobre e dicembre le famiglie barlettane si trovino a dover fronteggiare oltre 1.200 euro di tasse. Ma il punto dolente, ha evidenziato il consigliere regionale Alfarano, è che ogni proposta di emendamento fatta nell'interesse della città viene puntualmente bocciata da una maggioranza di centrosinistra evidentemente forte dei numeri che può vantare in consiglio. Anche sulla Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, il centrodestra avanza la proposta di non colpire pesantemente i proprietari delle abitazioni principali con una liquota dal 3,3 per mille, ma di estendere tale tassa a tutti i cittadini abbassandola alla sua soglia minima. Le proposte ci sono, hanno concluso i rappresentanti del centrodestra, e servirebbero a rimediare ai danni di un bilancio di previsione approvato solo a settembre e senza alcuna condivisione con la cittadinanza, al contrario di quanto sbandierato in campagna elettorale.